melania dimmi che siamo qui al trullo e i rit che hanno rubato e che cosa il trullo fa tappa al cinema grande di altamura il tour di uccio de santis e del cast di mi rifaccio il trullo il primo weekend è molto soddisfacente e c'è anche un annuncio che uccio fa adesso sì eravamo usciti Puglia Molise Basilicata Pescara e adesso da giovedì prossimo quindi tra tre giorni per me oggi è lunedì non so quando vedrete questa intervista il film esce anche a Milano a Torino a Roma e a Rimini insomma abbiamo conquistato altre 8 9 forse anche 10 sale continuando ovviamente anche nel secondo weekend per la nostra Puglia dove c'è è prevista una crescita di solito il film indipendentemente da quello che incassa nella secondo weekend c'è sempre tranne qualche eccezione c'è sempre un piccolo calo può essere un piccolo anche un grande calo io sono convinto che nel secondo weekend nella nostra Puglia nel nostro sud Italia Puglia Molise Basilicata ci sarà sicuramente un risultato superiore a quello fatto nel primo weekend i commenti sono tutti positivi anche le critiche sono state positive molto siamo stati da Marzullo se i critici hanno parlato in maniera favorevole hanno apprezzato la storia scritta da Antonio e da Silvio con la regia di Vitocea quindi siamo veramente soddisfatti adesso abbiamo l'acceleratore pigiato e non ci fermiamo nel pubblicizzarlo continuiamo a girare continuiamo andare a trovare i fan che insomma vanno a vedere il film che stanno al cinema nonostante siano anche dei giorni feriali forse un po' difficili perché uno magari sta in casa e uscire lunedì martedì mercoledì è un po' più difficile noi troviamo nella sala c'è sempre un pubblico caliente che ci aspetta no no andiamo a fare un'ape adesso noi invece facciamo la foca eh? la foca? la focaccia la focaccia? la focaccia